Ancorate d'un accordo hanno provveduto a mettere in sicurezza le parti pericolanti nella parte alta della torre campanaria che rischiavano di precipitare. Un intervento in extremis dei vigili del fuoco che ha così evitato il peggio all'ex convento delle Benedettine in piazza della Doccia a Monte San Savino. È successo questa mattina attorno alle 13 nel centro storico della cittadina della Val di Chiana. I vigili del fuoco con personale SAF e il nucleo speleo alpino fluviale si sono così ancorati su una corda per effettuare il lavoro senza rischi e quindi rimuovere le parti distaccate.